Il sindaco Ricci di propria iniziativa senza dare retta a nessuno, senza osservare le regole regionali che tutti osservano, tutti i comuni stanno osservando, di propria iniziativa stabilisce questo nuovo programma di tamponi. Secondo noi è un programma assolutamente inopportuno perché c'è un programma vaccinale che deve essere portato avanti che è assolutamente la cosa più importante e invece si cerca di distogliere sempre l'attenzione per spostarla su un interesse proprio personale. E' ora di dire assolutamente basta, se il sindaco Ricci ha la possibilità di avere del personale a disposizione per fare questi tamponi nelle scuole parli con ASUR, con le strutture regionali affinché possano dare una mano agli operatori sanitari della regione per effettuare i vaccini. Si cerca di buttare continuamente arco sul fuoco, sulla sensibilità delle persone e sulla giusta preoccupazione da parte dei genitori delle scuole ma non è questo il momento di fare questo tipo di operazione. È già stato fatto uno screening di massa nelle scuole, sarebbe opportuno eventualmente ripeterlo in maniera ciclica e non ci sono né le possibilità, né i tempi, né il personale. Tutte le persone si devono adoperare in questo periodo solamente per apportare il maggior contributo possibile per la vaccinazione di massa. Vaccinazione che ricordiamo questa settimana inizierà ad interessare anche il personale delle scuole e della regione? Assolutamente sì, quindi ancora di più questa è la dimostrazione dell'attenzione della regione Marche, di cercare di andare in maniera graduale, in maniera cronologica a interessare tutte le classi di persone interessate. E nel momento dove dobbiamo essere uniti, dobbiamo buttare tutti nella stessa parte, dalla stessa parte per cercare di raggiungere il risultato più importante, che è quello della vaccinazione di tutte le persone. Grazie a tutti.